ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video oggi a tema on kai star rail stiamo pullando per jing liu in questo video saranno racchiuse sia le mie pull che facciamo adesso che quale tutti gli altri sabini quindi vedrete un video unico pieno di pulline io al 50 e 50 sono a pt35 devo prendere appunto jing liu e se per caso perdo il 50 e 50 continuiamo a insistere tanto questi quattro stelle un po meno che in scema sia sampo che tingliu non li vorrei costellare quindi fa solo che comodo e niente io vi auguro buona visione buon divertimento iscrivetevi al canale passate sul sito viola dove siamo adesso per guardare le live in diretta che è sempre bello e divertente condividere questi momenti e passate a seguirmi anche su instagram per essere sempre aggiornati sulle prossime live fatemi vedere quando è stato l'ultimo quattro stelle così so appunto quando aspettarmelo è stato inizio molti quindi ci sarà quasi in due singole esce va bene allora siamo a pt35 io mi sa che dovrei fare le cinque singole per poi arrivare a 74 quindi dovrò fare questa cosa delle singole ora perché sono a 35 vado a 40 e poi vado di molti quindi andiamo con queste singolette un po fastidioso all'inizio ma ribilancio per fare la mia multi a 74 poi quindi questa è pt36 allora questa o la prossima probabilmente è il quattro stelle questa subito tingyun un light cone abbiamo iniziato come come mi immaginavo cioè male poi 37 faccio così fino alla 40 poi si va di molti 38 39 ok e 40 perfetto adesso almeno che siamo così bilanciati vado con tre multi fino alla 70 poi facciamo 71 62 73 74 e poi tiro la multi che lo sapete un po il mio modo di pullare va bene perfetto possiamo andare raga allora siamo a pt40 andiamo a pt50 multina nel banner di jing liu vabbè allora va bene in entrambi i casi perché non ho usato nulla quindi anche se lo dovessi perdere va bene va benissimo va benissimo va benissimo anche nel caso in cui lo perdo abbiamo detto andavamo a 50 quindi questo era 41 42 43 44 45 ottimo e 4 46 47 48 39 sii evviva oh let's go andiamo no banno è sbagliato si parte pt7 andiamo a pt17 let's go ok 4 stelle se mi esce qua una qualche copia di jing yun sarei contenta vediamo intanto vabbè sono contenta perché jing yu la volevo a meno l'altro banner lo teniamo per topaz che non troverò però magari ecco vedete questo era quello che volevo onestamente era questo quello che volevo che nel banner delle armi mi uscissero i personaggi top grazie perfetto perfetto molto bene banner dei personaggi perfetto molto molto bene eliana mi dispiace allora molto 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 bene vediamo va bene prossimo è un light con garantito ok 17 andiamo a 27 4 stelle vediamo un po' allora qui c'è sicuramente l'arma eccola qua l'arma di serval vediamo se appunto troviamo qualche refine dell'arma di coso di sampo stavo per dire vediamo se troviamo qualche refine dell'arma di sampo perfetto ci siamo intesi alla perfezione io gioco connessi mentalmente per ting yun non mi interessa niente perché l'arma che io ho dato a ting yun è quella del pass battaglia cioè sto usando l'arma in harmony del pass battaglia quindi non ci sono armi che potrei volere per ting yun mentre per sampo si ok andiamo a 37 4 stelle ok un memory of the past se mi dai un'altra arma di sampo sarei felicissima ma non posso pretendere il doppio di nuovo però se me lo vuoi dare non piango grazie 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 molto gentile molto gentile molto gentile va bene andiamo a 47 caricamento un po' laggoso liscio 4 stelle vediamo adesso il 4 stelle dovrebbe essere in fondo alla multi o ci fa un back to back early ma mi sta ascoltando mi stanno ascoltando dove sono dove sono quelli dell'olivers dove stanno da qualche parte ci sono per forza perché c'è dietro al computer non capendo da dove mi state osservando voi siete vabbè dico niente ecco il sabbione da qualche parte dovrà esserci però lo accetto perché è una pull in più e visto che torna so topaz non devo nulla va bene così ragazzi non devo niente non devo niente non devo niente non devo niente 3 per 4 stelle non mi esce mai a me mai questa è una pull visto che torna topaz ci fa molto bene ok 57 liscio quasi quasi faccio multi perché vorrei arrivare di singoli al 5 stelle quindi se faccio un'altra multi vado a 67 e ho cioè naturalmente ci dovrebbe essere il 4 stelle o quasi quindi quasi quasi fare un'altra cioè non faccio la multi al 5 stelle perché non c'ho letteralmente lo sbatti ok vediamo se c'è un altro sample light con che sarebbe carino ok memory of the past potrebbe essere l'ultimo della multi avevo detto light con di sample però va benissimo cioè va veramente bene io parlavo del light con però oddio oddio cioè se deve essere così deve essere così lo accetto lo accetto 67 forse c'è il 5 stelle forse no no infatti è nella prossima che andremo a singoli così staremo con immagone così però va bene adesso ci sarà un light con perché abbiamo trovato sample quindi quando esce un personaggio nel banner delle armi poi c'è un light con sarebbe carino il suo però è un memory of the past però inizio molti quindi magari ce n'è un'altra da accompagnarlo nel caso gentilmente quello di sample se me ne dai un secondo se non me lo dai pazienza però nel caso perfetto grazie mille era quello che volevo grazie carino gentile lineare rifine tipo 3 o 4 del light con di sample quindi sample fatto e sei direi che non ci si può lamentare va bene così ma va bene così va benissimo va benissimo adesso abbiamo le singole probabilmente questa singola è 5 stelle io spero sia l'arma di jing liu se non lo hai pazienza gli darò un'altra arma destruction che è quella del simulated che è comunque molto valida su di lei ho già i punti per prenderla quindi male che vada ce l'ho già pronti lì per prenderla però abbiamo di singola questa è 68 può essere qualsiasi non è questa ma questa la schippiamo perché il 4 e il 16 è stato a poco 69 non è nemmeno questa 70 vediamo no 71 no io potrei aver perso anche una multi per strada e non c'è davide mi tiene il pt quindi non sono mai precisissima quindi però eccola 72 72 5 stelle ecco 72 no quella di bailu vabbè pazienza pazienza ce ne famo una ragione tra l'altro bailu l'ho trovata questa mi mancava va bene va bene sì let's go andiamo a pt 87 qui c'è per forza raga eccolo qua la lucina ce l'abbiamo 5 stelle c'è vediamo vediamo che cos'è e a che punto è perché la prima singola questa è la 78 ok 79 l'avevi detto l'avevi detto l'avevi detto l'avevi detto imeco l'avevi detto imeco l'avevi detto imeco ok accettabile non te ne pentirai oh 5 stelle eccola eccola andando a pt 50 che culo andando a pt 50 grazie no scherzo no te avrei detto altro che bel viso ovviamente grazie meglio preferisco pt 42 eccola multi del 5 stelle la mamma subito mia attesa no su spazio o italia vince o italia perde vediamo vediamo la pompa o meno via vola vola ok anche qua questa è veramente 67 68 eccola 5 stelle early 5 stelle biglietto arcobaleno 5 stelle early 5 stelle early 5 stelle early ragazzi ci siamo vediamo 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 65 66 67 68 69 70 pure adesso siamo oltre e 7 71 72 73 l'ultima raga 74 64 andiamo 5 stelle 5 stelle ci siamo il 5 stelle c'è 65 66 67 67 68 68 yes l'arma giusta che novità nell'account di albi vero non l'avremmo mai detto non l'avremmo mai detto nell'account di albi mai detto pioggia infinita mondiale di scenè mondiale di scenè andiamo 5 stelle e almeno questo non si va oltre l'84 tipiti è già qualcosa cioè datene conto anche di quello bravi così pom pom vola nell'hyperspace ma io non ce la faccio io non ce la faccio vabbè ok oh no è stato così veloce e così improvviso adesso doppia doppia jingliu doppia non può trovare soltanto fabio e albis le doppie non possono doppia doppia non possono i due maledetti hai per forza ma anche perché io zen non ci sono mai stata manco ma io non so nemmeno cosa significa essere zen nella vita ah 76 no è 76 75 76 eccola 77 67 déjà vu eccola ci siamo ci siamo dai sono calma sono calma intanto spacca una finestra ok lascio calma anche io sto zitta in musa sono calma non mi riesci sì siamo qua siamo qua ma era una fugia volevo farlo una calma quindi abbiamo ragazzi ci siamo abbiamo fatto vedi federica così si pula nel banner army non come fai te così così si ấp se le sto scherzando no lo che se le sto scherzando Grazie a tutti.